I beni contraffatti a volte sono privi dei sistemi di sicurezza previsti dalla legge. Ancora maggiore è il rischio nel caso di acquisto di prodotti alimentari, farmaci, cosmetici o profumi. È necessario distinguere acquirente in buona fede di un prodotto contraffatto. Cosa significa? Nel primo caso il compratore acquista nella convinzione che il bene sia autentico. In questo caso il compratore è vittima di una truffa. Bisogna prestare attenzione al luogo di acquisto, spiazza anziché negozio convenzionato e al prezzo molto basso in relazione al tipo di prodotto che dicono di offrire. Secondo caso acquirente conscio della falsità del bene acquistato. Il consumatore in questo caso che acquista in modo consapevole un bene contraffatto deve sapere che può incorrere anche lui in sanzioni civili, penali o amministrative. L'acquisto di prodotti contraffatti può comportare infatti rischi anche per la salute o la sicurezza.